Ciao a tutti e benvenuti su Tech Gaming. In questo video voglio parlarvi di Itch. Non so se la conoscete. Si tratta di una piattaforma come Steam, Origin, Uplay e così via dicendo, ma rivolta prevalentemente agli indie. Quindi in questa piattaforma non trovate i classici titoli che ci sono su Steam, su Origin e altrove, cioè i capolavori di Ubisoft Capcom eccetera. Ma ci sono indie. Indie che a volte purtroppo passano inosservati e meritano la giusta attenzione perché ci sono degli indie davvero belli e diciamo Itch li mette in risalto. Itch è praticamente una piattaforma gratis che permette agli utenti di non solo giocare migliaia di giochi, naturalmente ci sono anche quelli a pagamento ma sono quasi tutti gratis, ma anche crearli e condividerli per farli sapere agli altri giocatori. Praticamente tipo Night in the Woods ci sono dei giochi che vengono proposti su questa piattaforma e il loro successo li rende poi dei titoli per console, per Steam, titoli professionali e conosciuti. Altri invece restano solo su questa piattaforma. Itch di recente ha attuato un'iniziativa davvero interessante che al costo di solo 5 dollari, che andranno devoluti ovviamente all'associazione contro il razzismo, vi permette di portarvi a casa quasi 800 giochi da aggiungere alla vostra collezione, 740 per la precisione, e questi giochi possono essere scaricati e installati sul vostro computer, giocati comodamente online o aggiunti alla vostra collezione. Ora, ci sono giochi noti come Wills of Aurelia o Night in the Woods e giochi amatoriali ma veramente ben fatti, oltre naturalmente i giochi spazzatura, quelli non mancano mai. Tramite questa piattaforma, andando su Esplora, parto con la premessa che dovete registrarvi, che è gratis, e confermare la registrazione. Avete poi due scelte, o effettuate l'accesso dal sito, quindi scaricate e installate i giochi dal sito, oppure utilizzate il client. Io personalmente mi trovo meglio con il client, perché utilizzo sempre il client per tutte le piattaforme, e grazie al client potete avere tutto sotto controllo, le raccolte dei vostri giochi, la libreria dei vostri giochi, le vostre creazioni, oppure i titoli presenti sulla piattaforma. Ci sono titoli che vanno da 15€ in giù, 5€, i più venduti, le demo, i titoli in vendita, i titoli gratis, oppure suddivisi per categoria. Ad esempio, andando su Horror Games, visualizzerete subito tutti gli horror che ci sono sulla piattaforma, e ne sono veramente tantissimi. Ma davvero tanti, che non riuscirete a vederli tutti, perché sono tantissimi. Però potete essere più specifici, ad esempio, sì, ok, un horror però deve essere con l'ambientazione dark, oppure no, deve essere 3D o 2D, insomma, potete scendere nel dettaglio. Ad esempio, ecco, non voglio un titolo horror solo singolo, ma anche multiplayer, insomma, potete scendere nel dettaglio. E qui avete i risultati, e i giochi, come potete vedere, sono tantissimi, veramente tantissimi. Ora, adesso vi do una dimostrazione. Cliccando su, non lo so, Rouge Like, e cliccando poi sul gioco, questo è molto famoso, soprattutto su smartphone, avete la possibilità di aggiungerlo alla vostra collezione, oltre che visitare la pagina del gioco, per comprarlo, scaricarlo gratis, a seconda ovviamente del gioco, perché ci sono alcuni sviluppatori che offrono il gioco gratis, altri a pagamento. Oppure, in questo caso, ecco, ci dice che, ok, se donate 5 dollari, ve lo ritrovate nella collezione, perché è incluso nei 700 e passa giochi. Ogni gioco ha la sua pagina, quindi nella pagina vi è, diciamo, tutto quello di cui avete bisogno, le informazioni sul gioco, gli screenshot, il video, eventuali commenti degli utenti, potete acquistarlo, scaricarlo gratis, o giocarlo online, se lo permette, aggiungerlo alla collezione, insomma, diciamo, la piattaforma dona agli sviluppatori la possibilità non solo di creare il proprio gioco e condividerlo sulla piattaforma, ma anche di avere una pagina personale per il proprio gioco, dove poterla allestire al meglio. Ad esempio, ecco, cliccando su Wheels of Aurelia, lo sviluppatore, in questo caso, ha scelto lo sfondo che si adatta al meglio al gioco, ha inserito alcune informazioni, il prezzo, la possibilità di scaricarlo o in versione demo o in versione completa, i commenti, i screenshot, i video, insomma, c'è tutto quello di cui avete bisogno. Itch, ripeto, è gratis. Potete andare su itch.io, qui, questo link qua, e scaricare il client, oppure usarlo comodamente online. Non necessita di alcun pagamento, non ci sono pubblicità invadenti. Vi registrate, confermate la registrazione, addirittura c'è l'autenticazione a due fattori per proteggere al meglio il vostro account, Dopodiché, dovete soltanto scegliere il gioco. Ecco, questo ad esempio è gratis, quindi cliccate sul gioco e qui avete tutte le informazioni e poi potete scaricarlo. Quindi, cliccando sulla versione desiderata, o meglio, cliccando su Download, scaricherete il gioco. In alcuni casi c'è anche la possibilità di scegliere la versione. Dipende dallo sviluppatore. Diciamo, ogni gioco cambia perché è lo sviluppatore a decidere quali informazioni inserire, quali non inserire, come gestire la propria pagina, quali link includere. Insomma, ma ecco, magari in questo caso, cliccando su Download, probabilmente, ecco, il gioco è a pagamento e costa 2 dollari. Oppure potete cliccare su No thanks, just take me to download. In altre parole, in alcuni casi vi viene richiesto questo pagamento, che non è obbligatorio. Vi sta dicendo che, ok, allora, se scaricate questo pacchetto, all'interno troverete la demo di questo gioco per tutte queste versioni dei vari sistemi. Mi potete offrire 2 dollari pagando con carta di credito Paypal oppure no, e scaricate il gioco gratis, quindi non siete obbligati a pagare. In alcuni casi il gioco è completamente gratis, che sia demo o completo. In altri casi, invece, dovrete per forza pagare qualcosa per poterlo scaricare. Comunque, ci sono veramente migliaia di giochi gratis. Andate su Free Games e potete stare tranquilli che il gioco è gratis. Quindi, magari, ecco, se passate con il mouse sul gioco, vedete che ci sono alcuni titoli davvero simpatici e vi dà la possibilità di avere un'anteprima, vedete, sia con le GIF che con i video. Ora, questo gioco mi sembra veramente carino. Guardate, è fatto veramente bene ed è pure gratis, tra l'altro. Quindi, potete cliccare su Download e qui, ecco, potete scegliere la destinazione dove scaricare il gioco e cliccare su Installa. In questo modo, diciamo, avete la possibilità di avviarlo direttamente da Itch, cioè avere una piattaforma come Steam e come tutte le altre dove avere il vostro bel gioco. Quindi, diciamo, allora, se procedete dal sito web, allora i giochi vanno scaricati e installati individualmente oppure giocabili online, qualora il gioco lo permette. Se invece scaricate e installate Itch, la piattaforma proprio che trovate sul sito, ed effettuate l'accesso, avete la possibilità di installare i giochi sul vostro computer per poi lanciarli direttamente qui, in Installati. Quindi, diciamo, diventa come Steam, ma ci sono migliaia di giochi gratis e prevalentemente indie. Ci sono giochi anche a pagamento, come vi ho detto, ci sono giochi in cui vi viene richiesta una donazione, ma non è obbligatoria. Però la maggior parte dei giochi sono gratis e alcuni, come avete visto, quello di prima, sono veramente belli. Quindi, io, se fossi in voi, gli darei una possibilità e andrei su itch.io per scaricare la piattaforma, registrarmi e provare appunto i tanti e tanti e tanti titoli presenti su questa piattaforma. Se questo video vi è piaciuto, vi è servito, cliccate sul pollice in alto, iscrivetevi al canale e per qualsiasi domanda non esitate a lasciare un commento.